L'annuncio è arrivato nella tarda mattinata di oggi. È stato rilevato un caso di coronavirus nello staff della Vispesero. Il tutto a poche ore da una partita di campionato prevista in turno infrasettimanale e che era in programma questa sera. Ma oggi Ravenna-Vispesero non si giocherà. È stata rinviata a domani, giovedì 8 ottobre, alle 20.45. Una posticipazione arrivata nel pomeriggio come conseguenza di tutte le accortezze derivate dai protocolli anti-covid. La Vis non ha rilevato l'identità del caso positivo al contagio, limitandosi, attraverso un comunicato, a dire che si tratta di un componente dello staff tecnico risultato positivo al covid-19 al termine della elaborazione dei tamponi effettuati lunedì 5 ottobre, componente dello staff che ora è stato isolato e posto in quarantena. Ieri sera la Vis ha ricevuto i risultati dei tamponi e oggi è scattata la procedura che ha portato a notificare la positività al contagio sia alla Lega Pro sia agli avversari del Ravenna. Anche per questo motivo tutto il gruppo squadra a Vissino ha rimandato fino all'ultimo la partenza per la trasferta, comunque poco distante, che era prevista questa mattina. La partita è al momento rinviata domani alle 20.45 ma data e orario per essere confermati hanno bisogno del nulla osta derivato domani dai risultati di un altro giro di tamponi nella speranza di rilevare la totale negatività del gruppo squadra. In SRC il protocollo prevede tamponi ogni quattro giorni ma in questo caso sono stati anticipati per avere il via libera alla partita. Rinviare a domani il match con Ravenna dove si giocherà a porte chiuse significa anche rinviare la successiva partita vispesero-matelica che era in programma allo stadio Benelli di Pesaro sabato 10 ottobre alle 20.45. Si giocherà invece il giorno dopo domenica 11 ottobre alle 17.30. Quello registrato oggi è il secondo caso di coronavirus alla vispesero arrivato sette mesi dopo la positività al covid del calciatore Andrea Tessiore avvenuta lo scorso marzo cioè prima del lockdown e prima della sospensione del precedente campionato. Allora i contagi non si propagarono in altri elementi della squadra. Si incrocia le dita che vada così anche in questa occasione.